E allora cominciamo a guardare da vicino uno dei generi più significativi di questa rivoluzione La lirica monodica Provate a immaginarvi la scena Un piccolo gruppo si prepara ad ascoltare il poeta lirico Il poeta cantore è seduto in mezzo a loro Regge tra le mani lo strumento prediletto La lura o la chithara, meravigliosi giocattoli sonori a corda E inizia a cantare i suoi versi È in questa atmosfera così raccolta che il poeta esprime i suoi sentimenti E per riuscirci meglio ricorre soprattutto a due tempi verbali